8 azzurri tutti intenzionati a ben figurare sul palcoscenico internazionale è l'appuntamento più importante dell'anno per la fit sport italia e l'evento che metterà in palio i titoli ridati tutto pronto a plovdiv per i campionati mondiali junior adult e veteran di taekwondo itf che scatteranno lunedì prossimo e si concluderanno invece venerdì 30 agosto nella località della bulgaria la nazionale italiana guidata dal commissario tecnico giuseppe la notte sarà rappresentata nell'occasione da giuseppe cafagna ed ivan il grande della federico secondo di svevia barletta katia sisto e ruggero signoriello della corean team trintapoli ferdinando pistillo flavio vania e nicola granito del team ardito canosa e afrim cocai del team le aquile mugio monza la fiducia non manca di certo tra gli azzurri tutti con esperienze precedenti in competizioni ridate e continentali o in open internazionali di taekwondo itf il coefficiente di difficoltà dell'evento però sarà elevatissimo con circa 1500 protagonisti in rappresentanza di 70 nazioni l'italia tuttavia ha buone cartucce da sparare e può puntare alla conquista di qualche piazzamento sul podio la pattuglia della fit sport a plovdiv intanto sarà completata dagli arbitri ruggero la notte raffaele ardito e dal medico sociale pamela dettoni prevista la partecipazione della spedizione azzurra anche ai seminari internazionali in scaletta nel fine settimana domenica 25 agosto infine verrà presentata la candidatura per ospitare i campionati mondiali del 2023 a rimini la località romagnola che ha già ospitato quest'anno gli europei di tutte le categorie